Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Anche il Lombardo padre Giorgio Maria Farè si è opposto a Bergoglio. Recentemente padre Farè ha dichiarato apertamente di non riconoscere Bergoglio come il Papa. Dunque anche all'interno della Chiesa vi sono dei risvegli interessanti e sempre più persone interne al mondo della Chiesa capiscono che non solo le posizioni di Bergoglio sono genericamente incompatibili con la dottrina cristiana, ma che al tempo stesso Bergoglio non è tecnicamente il Papa. Di questi argomenti ci siamo estesamente occupati nel nostro studio La fine del cristianesimo, edito da PM, al quale rimandiamo. Insomma Bergoglio non è il Papa, in estrema sintesi, da che Ratzinger nel 2013, alias Benedetto XVI, non rinunziò al munus e rimase munus abens, per variare una nota espressione di uso comune. Rimase munus abens e dunque, poiché rimase Papa, fu ipso facto un atto invalido l'elezione di Bergoglio, che dunque non è mai stato il Papa e non lo è tuttora. Il fatto che adesso anche padre Farè lo dica apertamente rappresenta un ulteriore passaggio a ciò che questa verità emerga e si imponga un poco alla volta. Oc erat in votis. La verità è figlia del tempo, diceva Bacone, e dunque a tempi lunghi per affiorare, ma in ogni caso un poco alla volta, anche se sommersa, come diceva Seneca, viene poi a galla.